Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. In questo video a scopo divulgativo parleremo del carcinoma mucoepidermoide. Prima di cominciare ti invito chiaramente ad iscriverti al canale, attivando la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato o aggiornata su tutti i contenuti che pubblico. Sul mio canale parlo di argomenti di medicina, odontometria e antropologia a scopo divulgativo. Il carcinoma mucoepidermoide è un tumore maligno che colpisce le ghiandole salivari e tende a colpire maggiormente i soggetti di tracompresa tra i 20 e i 50 anni, con una leggera predisposizione maggiore nelle donne rispetto che negli uomini. Le ghiandole salivari sono deputate, come dice il nome stesso, alla produzione della saliva e si suddividono in due grossi gruppi. Abbiamo appunto le ghiandole salivari maggiori, cioè la parotide, la sottomandibolare e la sottolinguale, e le ghiandole salivari minori, che sono ubiquitarie all'interno del cavo orale. Le possiamo ritrovare a livello delle labbra, delle guance, del palato, della lingua e così via. Il carcinoma mucoepidermoide è il tumore maligno più frequente delle ghiandole salivari ed è per questo motivo che è importante parlarne ed è importante farne divulgazione in tal senso, perché come vedremo a breve la diagnosi precoce risulta essere di fondamentale importanza. Qualsiasi ghiandola salivare può essere potenzialmente colpita da questa forma di carcinoma, anche se i dati statistici ci dicono che generalmente la ghiandola più colpita risulta essere la parotide e anche la sottomandibolare. Dal punto di vista strettamente clinico questo tipo di tumore si presenta come una tumefazione del palato, non ben circoscritta e con un colorito variabile, può avere un colorito rosa, rosso, grigiastro o anche bluastro. Questi noduli nelle fasi più avanzate possono aumentare ulteriormente di dimensioni e ulcerarsi, andando ad interferire con quelle che sono le funzioni orali. La diagnosi precoce è cruciale e può essere effettuata dal medico odontoiatra oppure dall'otorinolaringoiatra, perché appunto sono quelle figure mediche che più frequentemente visitano la cavità orale, palato compreso, perché anche a livello del palato questo tipo di tumore può insorgere. Di fronte al sospetto diagnostico clinico il medico a quel punto prescriverà degli esami di primo livello, l'ecografia, la panoramica dei denti e poi se necessario, quasi sicuramente andrà anche a prescrivere degli esami di secondo livello, come la TAC per valutare i tessuti duri e la risonanza magnetica per valutare lo status dei tessuti molli. Ci sono chiaramente delle forme a basso grado di malignità e delle forme ad alto grado di malignità. Ovviamente la distinzione tra queste due forme è una distinzione che fa l'anatomopatologo andando a osservare dal punto di vista istologico il reperto, perché la biopsia permette la diagnosi di certezza, che come potete ben immaginare in questi casi risulta essere di cruciale importanza. Nelle forme a basso grado di malignità l'anatomopatologo andrà a riscontrare una architettura cellulare relativamente preservata e avremo quindi un aspetto più cistico e avremo ovviamente più rare anche le metastasi a distanza e la sopravvivenza media in questa forma a 5 anni è ben superiore rispetto al 90%. Le varianti invece ad elevato grado di malignità, come potete ben immaginare, tendono ad avere una prognosi più sfavorevole perché hanno chiaramente delle dimensioni maggiori e possono in alcuni casi andare ad infiltrare il nervo facciale. Se ovviamente il nervo facciale viene infiltrato dalla neoplasia ci potrà anche essere una paralisi di questo nervo. Le metastasi in queste forme ad elevato grado di malignità si possono riscontrare nel 50% dei casi. Il trattamento di questa forma tumorale è un trattamento prevalentemente chirurgico. È chiaro che nelle forme a basso grado di malignità sarà un trattamento per lo più conservativo, nelle forme invece ad elevato grado di malignità sarà un trattamento più aggressivo e in alcuni casi sarà necessario anche effettuare radio e chemioterapia perché poi qui con la stadiazione TNM, oncologo e chirurgo e anche radioterapista ovviamente decideranno qual è la scelta terapeutica più giusta da seguire per il paziente. Se il tumore colpisce la parotide, che abbiamo visto essere una diandola salivare maggiore, ci può essere il rischio di andare a lesionare il nervo facciale. Ad oggi le cause del carcinoma mucoepidermoide non sono ancora ben note, tuttavia diversi fattori di rischio sono stati tirati in ballo, dalle radiazioni ionizzanti fino anche all'esposizione a sostanze chimiche tossiche come per esempio il nickel, fino anche ad una predisposizione genetica. Ulteriori studi sono necessari per poter comprendere meglio questo tipo di tumore. Se il video ti è piaciuto puoi lasciare un mi piace ed iscriverti al canale e puoi anche condividerlo con altri utenti per rendere sempre più utile per tutti questa community. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.